Chissà come se la stanno cavando, Junior e papà Gokou? Finalmente ti vedo sui libri, bravo piccolo mio, sono orgogliosa di te Del resto è colpa di quei due se sei rimasto indietro con il programma E' una fortuna che Gokou e Junior non ci siano, così puoi studiare quanto ti pare Ciao! Ma si, io sono contento di vederti, draghetto Ho un'idea Andremo a vedere come vanno le lezioni di guida di papà E' incredibile, hai imparato con una velocità impressionante, signor Junior Provi ad accenderla ancora, stavolta ce la farà Le ho detto di mettere in moto Ecco, mi sono già dimenticato come si fa Non posso crederci, io insegno da oltre 70 anni e mi crede la prima volta che mi capita un allievo distratto come lei Le chiedo scusa ma non lo faccio apposta D'accordo, dia gas ora Gas? Ma che cosa sta dicendo? Non sento odore di gas io Ma cosa ho capito, Zuccole? Le ho detto di accelerare E lo si fa schiacciando il pedale sotto il piede destro, quello a sinistra invece è il freno Quante volte glielo devo ripetere? Ah, si, mi scusi Ma che cosa è successo? Credo di avere messo la retromarcia, scusi Insomma, le ho detto di frenare, Zuccole? Lo vuole schiacciare in quel pedale? Sì, sì, subito Il freno è quello a sinistra, giusto? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, vada diritto, diritto, capito? Come? Diritto? Diritto Come si fa? Si usa l'altro pedale Stiamo andando contromano Eh? L'ho detto che stiamo andando contromano Cosa significa? Prenda in mano il volante e schiacci il pedale del freno! Così va bene? Lei ci vorrà non meno tre anni prima di riuscire a prendere la patente. Ma io non ho tutto questo tempo da mettere a disposizione. Devo finire di allenarmi prima che arrivi... È negato.